Uomini e donne, bufera in studio per la scelta di Giorgio Manetti, ecco perché. Durante l'ultima registrazione il pubblico si è scagliato contro il Fiorentino. Il programma più seguito nel primo pomeriggio di Canale 5 è Uomini e donne, basato sui sentimenti e l'amore, ci sono due tipi di trono, trono classico e trono over, in cui tutti gli uomini e le donne di qualsiasi età possono ancora incontrare la persona della loro vita, oggi ci soffermeremo sui senior, soprattutto su Giorgio Manetti. L'uomo è stato protagonista di una bellissima storia d'amore con Gemma Galgani, la quale lo ha successivamente lasciato senza validi motivi. La dama torinese, dopo aver provato ad andare avanti con la sua vita, è ritornata alla carica e sta cercando in tutti i modi di riconciliarsi con il gabbiano. Giorgio cederà al fascino della donna? Pioggia di critiche sulla sua scelta durante l'ultima registrazione del trono over, continuerà ad accontentare l'ex fidanzata? Bufera in studio. Nel corso dell'ultima registrazione del trono over, Gemma Galgani ha deciso di terminare la sua conoscenza con il cavaliere Raffaele. L'uomo ha dichiarato di non avere più interesse per lei e gli opinionisti gli hanno fatto notare che Gemma è ancora innamorata di Giorgio, dopo una lunga discussione la dama torinese vuole che Raffaele lasci il programma dato che è sceso per lei, ma quest'ultimo chiede di restare perché crede ancora nell'amore. La Galgani chiede di fare un ballo con Giorgio, Mattina lo ferma e lo intima di rifiutare l'offerta. Il fiorentino resta fermo sulla sua intenzione di ballare con Gemma tant'è che il pubblico lo accusa di falsità, facendogli rinunciare al ballo. Balleranno ancora insieme? Giorgio è rimasto molto infastidito dalle parole, che sono state dette in studio, dato che la sua scelta era già stata presa. Con Anna e Paola Giorgio Manetti ha deciso di dare ad Anna Tedesco un regalo per il suo compleanno, ma la sua scelta viene presa di mira da Gianni Sperti. L'opinionista è fortemente contrario, che questo gesto sia fatto in studio davanti a tutti, soprattutto perché tra di loro non c'è solo amicizia. Il fiorentino ribatte che si sarebbe aspettato un ringraziamento dagli opinionisti per il regalo, che ha fatto a loro e Gianni fa notare che non l'ha gradito perché si tratta del suo libro. Manetti siede al centro dello studio insieme a Paola, la donna, che sta frequentando, dopo l'esterna, l'uomo fa presente in studio, che mentre passeggiavano nei pressi di Ponte Emilio aveva provato ad abbracciarla preso dalla passione ma Paola l'ha fermato. La donna spiega a Maria, che queste cose non vorrebbe farle in strada davanti a tutti, ma Giorgio chiude ogni rapporto con la donna dopo il suo gesto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.